Mister, finita 3-0 per il Porto, altra partita importante perché cercavi ancora conferme, è stato così, nonostante sia una partita poi finita in superiorità numerica, qualche infortunio di troppo, insomma, tre punti però importanti. No, sono tre punti importantissimi, difficilissimi da andare a prendere perché abbiamo fatto un primo tempo in sofferenza, sono stati bravi secondo me a restare in partita, a soffrire, perché sapevo, perché le crisi gioca bene a calcio, è quello, era anche la terza partita in una settimana ed è stata dura, dopo gli episodi sono andati un po' a favore nostro, li abbiamo portati e sull'episodio dopo l'abbiamo sbloccata e dopo la stanza di fortunati c'è stata l'espulsione, abbiamo fatto gol, l'abbiamo in qualche maniera portata a casa, dovevamo gestire un po' meglio gli ultimi 20 minuti, però va bene, va bene così insomma. Cosa non ti è piaciuto di questo primo tempo che dicevi? Non eravate riusciti a ringranare? No, non eravamo brillanti come le altre volte, anche fisicamente e dopo abbiamo trovato, io ho visto anche la partita che avevamo giocato con il Sandona mercoledì scorso, abbiamo fatto la stessa partita che hanno fatto qua oggi, dunque è una squadra che gioca, gioca a calcio, magari non riesce a sbrucare il risultato, però ripeto, noi siamo stati bravi a restare sul pezzo, a non subire gol soprattutto e dopo abbiamo delle caratteristiche che possiamo andare a far male se ci lasciano qualche spiraglio, ce l'hanno lasciato e abbiamo portato. Avevi qualche problemino per i difidati, avevi un po' di paura che qualcuno… No, ne ho diversi difidati e allora però non è quello, gli ho detto, di giocare sereni e così, dopo magari di evitare prendere due o tre di difidati e prendere munizioni, però questo è un altro discorso, insomma, si è così. E si va avanti, bisogna cercare di migliorare soprattutto quando siamo in possesso palla, loro erano bravi soprattutto il primo tempo a venirci a pressare, la perdevamo spesso, abbiamo dovuto correre tanto a vuoto e non eravamo sicuramente brillanti come mercoledì o come sabato scorso.